Lai Unshi, Estonor Sons Bella a tutti ragazzi, qui vedo la channel con un nuovo video L'abbiamo aspettato, atteso, bramato, richiesto impazientemente Ma finalmente eccoci qui con la nuova stagione di Demon Slayer Ufficialmente partita in data 5 dicembre C'è da dire che è stato difficile capire come chiamare questa stagione C'è chi la chiamava Season 2 Episodio 8 Collegandolo quindi a Mugen Train Arc, la serie Da una parte stava scritto Season 2 Episodio 1 Da un'altra Entertainment District Arc, Episodio 1 Ma alla fine quella corretta è Season 2 Episodio 1 E abbiamo aggiornato anche la copertina per questo Per vedere la serie la trovate benissimo su Crunchyroll Con un abbonamento premium gratis per 30 giorni la prima volta E poi 5 euro al mese Non siamo sponsorizzati, è semplicemente disponibile lì Piccola parentesi prima di iniziare Sapete bene che abbiamo criticato il riproporre il film in chiave a episodi Definendola una scelta non troppo azzeccata dal nostro punto di vista Il ritorno di Demon Slayer, come vedremo fra poco Doveva essere un boom E non un devo aspettare un altro mese per sapere che succede dopo Ci sta sul lato marketing Magari qualcuno non aveva ancora visto il film o voleva rivederselo Ma noi ad esempio non abbiamo proprio portato delle recensioni Inoltre ha anche flopato un po' in Giappone Ci sono stati dei cambi tipo tagli o correzioni leggere Ma anche delle cancellazioni dirette di sequenze Per fare 23 minuti di episodio Con questa nuova serie possiamo finalmente portarvi Demon Slayer come si deve Senza ripeterci sulle stesse cose più volte del dovuto Un recap di Mugen Train bastava e avanzava Senza riempire 7 settimane e dando comunque spazio agli animatori per lavorare Perché sia chiaro, non volevamo la serie un mese in anticipo Semplicemente non volevamo questo antipasto un po' andato a male Date le informazioni del caso e chiarito qualche punto Possiamo finalmente cominciare Questo primo episodio è qualcosa di superbo Uno start di qualità tipico ormai dello studio di animazione E segnato anche nell'episodio pilota di Mugen Train Arc Su quello non abbiamo nulla da ridire e tantomeno con questa nuova serie Sulla carta siamo ancora nell'arco del treno Giusto gli ultimi capitoli conclusivi per poi passare al successivo Partiamo con un piccolo flashback della morte di Kyogiro Nell'ultima battaglia vista ancora devastante nelle menti dei protagonisti Inosuke, Tanjiro e Zenitsu sono in lacrime Poiché impotenti dinanzi alla violenta lotta con Akasa Tutti hanno ricevuto notizia della morte del pilastro Ma in particolare suo fratello minore Senjuro è Kagaia Il quale lo saluta e ha professato di essere vicino al raggiungerlo Qua vi è una piccola differenza rispetto al manga Ovvero il fatto che non pronuncia quest'ultima frase E la sua malattia non ha raggiunto il collo Come nella controparte cartacea Il capofamiglia è peggiorato Ma non sembra proprio a causa della presenza della malattia Solo e ancora sui suoi occhi Passiamo ad una sequenza introduttiva Con sfondi e timelapse di altissima qualità I quali ci accolgono in questa nuova stagione UFO Table si è contraddistinta Dando questa intro a modi film Pur essendo un episodio esteso da 40 minuti La fotografia fa da padrone in questo momento Dove ci viene introdotto un bimbo che si reca in libreria Taciturno e inquietante Dopo aver preso un libro Si dirige sempre con quest'aria cupa Verso la propria dimora Dove viene elogiato dai genitori Poiché figlio adottivo Diligente, intelligente e speciale Letteralmente un piccolo prodigio Questi si reca nella propria stanza E gira solo di notte Poiché affetto da una rara malattia Che gli impedisce di stare alla luce del sole Il bimbo è indubbiamente Musan Ancora una volta infiltratosi in mezzo agli umani Per muoversi indisturbato E proseguire la sua ricerca di una vita Dedicata all'ottenimento del licoris blu Il giglio del ragno Rarissimo e introvabile Rispetto alla sua variante primaria rossa Il libro noleggiato prima non era altro che un libro di botanica Ma la sua consultazione viene interrotta da Akasa Arrivato per fare rapporto al signore dei demoni Tutta questa parte prima dell'arrivo della luna È inedita nell'anime Aggiunta per dare non solo minutaggio Ma anche una spiegazione migliore Su come Musan riesca ad infiltrarsi fra gli umani Rispetto alla violenza Il demone utilizza approcci decisamente ponderati Logica e intelletto fanno da padrone Per sfruttare gli scenari migliori per il suo obiettivo Mettendo alla luce la sua meschinità e cinismo Tornando all'arrivo di Akasa La luna ha dichiarato di aver ucciso un pilastro nella sua missione Non trovando però alcuna traccia del fiore tanto ricercato Nonostante sia un traguardo ai suoi occhi Musan non è per niente felice Tanto da colpire il suo sottoposto dritto dal suo sangue Con un'onda d'aria La quale distrugge persino le finestre dietro di lui Con la semplice attivazione Fa pompare i vasi sanguigni della luna Facendolo agonizzare e sputare per l'enorme dolore Banalmente per lui i demoni battono gli umani Quindi non deve compiacersi per aver ucciso un solo pilastro È naturale che siano loro a vincere Eppure si è lasciato scappare gli altri ammazzademoni presenti Compreso quello con gli orecchini anafuda Che è riuscito a colpirlo È stato colpito da un cacciatore di bassa lega Akasa viene denigrato per il suo fallimento dal suo superiore Il quale si accanisce anche sul libro appena preso E con sguardo iracondo continua a torturarlo La scena è fenomenale Arricchita dalla colonna sonora Il solo ripetere del nome della luna accresce il terrore Seguito dalla sofferenza continua Il signore dei demoni conge da Akasa Dandogli del ramollito Ma facendolo riprendere anche fisicamente E lasciare la stanza appena in tempo Prima dell'arrivo del padre di famiglia La terza luna col Madira Comincia a riempire di pugni La Nichirin lanciatagli da Tanjiro Disintegrandola E promettendo di fargli esplodere il cervello Al prossimo incontro Rispetto ai singoli panel del manga Qua vediamo il processo mentale di Akasa E il suo essere stato gravemente ridicolizzato Portandolo quasi ad impazzire per la rabbia Cambiamo scenario E torniamo alla tenuta delle farfalle Dove i protagonisti si stanno riprendendo Dalle loro ferite Gravi o meno Aoi prepara del cibo Rubato furtivamente da Zenitsu Mentre le tre sorelline Si stanno prendendo cura degli altri Il giovane utilizzatore del fulmine Ripensa come persino le persone forti Possano scoraggiarsi e disperarsi In questo caso Proprio il suo amico Tanjiro Quest'ultimo nel mentre È sparito dalla dimora Nonostante la ferita molto profonda Per riferire le ultime volontà Di Kyojiro Alla famiglia Rengoku Guidato dal corvo del pilastro Fuori dalla loro casa Trova Senjiro Fratello minore di Kyojiro Intento a pulire l'ingresso Il ragazzino è spaventato e ancora scosso Per la morte del maggiore Ma non rifiuta l'approccio del Demon Slayer Per sentire i vari messaggi da lui lasciati Tanjiro è completamente pallido Anche a causa dei dolori Ma ad interrompere la conversazione Arriva Shinjiro Ex pilastro della fiamma E padre di due ragazzi L'uomo è parecchio scorbutico E violento Tanto da insultare pesantemente Il suo successore Appena deceduto E criticare il secondo Per quanto pietoso Nonostante la fine dei funerali Tanjiro non accetta di certo tali maniere Soprattutto per quanto stravedeva Per il pilastro della fiamma attuale Affermare tutto È la reazione del vecchio Vedendo i suoi orecchini a nafuda Shinjiro impazzisce E attacca il giovane Demon Slayer Additandolo e rivelando Involontariamente Come sia un erede Del respiro del sole Il respiro originale Da cui sono derivati tutti gli altri Per sua conoscenza L'uomo interpreta la sua venuta Come un puro tentativo Per prendersi gioco di loro In tutto questo Non si fa problemi Anche a schiaffeggiare suo figlio Tanjiro rimane basito Nel sentire quelle parole Anche perché la sua famiglia Ha avuto per generazione L'identità di Carbonai Con usanza Il tramandare la danza Kagura Non degli spadaccini così importanti E ancor meno Dei semplici spadaccini In generale Stanco di tutta quella situazione Tanjiro scoppia in lacrime Poiché Pieno di vergogna A causa della sua debolezza Non è riuscito a salvare Chiogiro in quel momento Questa è la verità È l'unica cosa Che sta pensando Non gli può importare meno L'essere o no Un erede del respiro del sole Stanco delle parole pesanti Dell'uomo Va alla carica Prima fallendo un pugno E poi finendo la questione Con una testata Riuscendo a tramortirlo Finalmente Tanjiro e Senjiro Possono parlare in santa pace Mentre l'uomo È andato in città A prendere del sake I due ragazzi Parlano ovviamente Di Kyojuro E dei suoi ultimi momenti Senjiro ringrazia Il Demon Slayer Per avergli raccontato Le gesta del pilastro Fino al suo ultimo respiro Per poi Scoppiare in lacrime Per sdebitarsi Dà a Tanjiro Le annotazioni dei pilastri Della fiamma Di tutte le generazioni Così da scoprire qualcosa Riguardo la danza Kagura E forse Il Respiro del Sole Purtroppo per loro Il libro è completamente distrutto Strappato indubbiamente Da Shinjiro Ripensando al fratello maggiore Senjiro racconta Come non sia stato in grado Di far cambiare il colore Della sua Nichirin Nonostante Gli allenamenti intensi Con Kyojuro Sarebbe dovuto diventare Il suo allievo Ma per la mancanza di abilità Nella scherma Non ha mai raggiunto Un livello tale Da essere nominato Di Monslayer Così facendo Non per colpa sua Ha rotto una generazione Di secoli Dei pilastri della fiamma Il cui respiro Non potrà essere tramandato All'interno della loro famiglia Per rimediare almeno in parte Alla cosa Senjiro dona a Tanjiro Lo Tsuba Della spada di suo fratello Così da consacrare Una simile eredità Come allievo O successore I due si salutano E Senjiro rientra in casa Proponendo al padre Di sentire le ultime volontà Del suo primo genito L'uomo rifiuta Ma il ragazzo Gli le comunica comunque Voleva si prendesse cura Della sua salute Nulla di più Tentando di scacciare la tristezza Prende la sua brocca di sake Ormai vuota Anche senza alcol Senjiro scoppia in lacrime Finalmente Unica e violenta Ovviamente Ha sempre tenuto a suo figlio Ma la sua esperienza Come pilastro E la perdita della moglie Lo hanno distrutto sempre di più Inoltre sapeva che Prima o poi Avrebbe sofferto a causa Del suo ruolo militare Che fosse per la sua morte O quella di un caro Tanjiro Per la via di casa Viene incrociato dal suo fabbro Aganezuka Intento ad ucciderlo Per aver rotto l'ennesima Nichirin Per quanto la scena Sia tutta parodistica E semplice Comunque funziona perfettamente Anche se il loop È con animazione basilare A salvare il ragazzo Arrivano Hoi E le tre sorelline a notte fonda Le quali riescono a farlo Intrufolare alla tenuta Tramite una porta di servizio La mattina dopo I tre ragazzi Cominciano la loro giornata Con un abbondante pasto Per poi allenarsi A più non posso Giorno dopo giorno Gli esercizi estenuanti Temprano il loro corpo E Diciamolo per il meme Subiscono un'ipertrofia muscolare Accentuata A parte i nosche Che era già enorme Dopo essersi ripresi Ricevono a testa Delle missioni individuali Così da non lasciarli A mani vuote Qui abbiamo una parte Inedita di una missione di Tanjiro In un tempio Contro un demone con le chele Il ragazzo è sì Diventato più forte Ma non sottovaluta per niente Nemmeno queste missioni minori Finalmente Ha consapevolezza Delle sue abilità E punta a migliorarle Sfruttando anche La copia in battaglia Creata con Nezuko Senza lasciarla da parte Come faceva di solito I due sono affiatati Come non mai E completano la missione Senza problemi Non lasciando nemmeno traccia Del loro arrivo Nel capannone Di una famiglia Lì vicino Nel quale Si era rifugiato il nemico Le musiche E la coreografia Sono on point Per creare le giuste atmosfere Qui finisce Ufficialmente L'arco del Mugen Train Dando spazio Al nuovo arco Che dà titolo Alla nuova stagione L'arco del quartiere dei piaceri O a luci rosse Per come lo conosciamo tutti Di ritorno dalla missione Tanjiro sente delle urla Provenire dalla dimora Delle farfalle Qui vediamo Il pilastro del suono Tengen Uzoi Intenta rapire Tra molte virgolette Aoi e Nao Per una sua missione Kanao è pietrificata Perché non sa prendere Una decisione adeguata Per la situazione E opta di nuovo Per la moneta Ma ripensandoci Ricorda le parole di Tanjiro Il quale l'ha convinta A seguire direttamente Il suo cuore Il gruppo riesce a fermare Un minimo il ragazzone Lasciando tempo a Tanjiro Per arrivare La situazione È un attimo confusa Anche perché non si capisce Dal suo punto di vista Se siano le altre Ad aver attaccato il pilastro O viceversa Tengen rivela i suoi piani E nessuno potrà fermarlo Vista la sua posizione E avendo come superiore Solo Kagaia Kamado propone quindi Uno scambio Lui, Zenitsu E Inosuke In cambio di Aoi Così da prendere il suo posto Nella missione Il pilastro Lascia in pace le ragazze Non prima però Di aver schiaffeggiato Il sedere di Aoi C'era anche nel manga Non ci soffermiamo troppo Ma fa parte Dell'ego di Tengen Necessario? No In character pure troppo Giapponesata Assoluta Con il team deciso Possono finalmente partire I tre chiedono la destinazione Un po' spaventati Dalla stazza del pilastro Ricevendo come risposta Il quartiere più vistoso Del Giappone Pieno di colori E lussuria La nuova saga Ha finalmente inizio E ad attenderli Vi saranno dei demoni Molto più forti Dopo il foreshadowing finale Parte la opening Piena zeppa di spoiler O per definirli In modo più soft Easter eggs Questa volta Non troviamo la solita Lisa Ma Eme O Imer Con la sua inedita Zanchio Sanka La conoscete sicuramente Per la serie Fate Questa sigla Non è complessissima Sulle animazioni Ci sono molte scene statiche E semplici Ma registicamente E a livello coreografico È fenomenale Soprattutto con i sync Creati con la musica La semplicità Fa da padrona Ma l'occhio Ha la sua parte Senza stonare in nessun momento Non delude per niente Le aspettative E anzi Le innalza La sigla è fenomenale E non ironicamente La stiamo ascoltando In loop da due giorni Inizia con uno shot di Tanjiro Che stringe fra le mani Lo tsuba di Rengoku Per poi presentarci Le tre mogli di Tengen Lo shot successivo Con i due ai lati Dello schermo È lo stesso fatto Per la serie sul Mugen Train Cambiando Kyojiro Con il pilastro del suono È letteralmente riciclato Ma crea una certa consistenza Che non ci dispiace Probabilmente verrà Riutilizzato più volte Ci viene fatta vedere La bellissima main villain In abiti parecchio eleganti Ma che non toglie spazio A Zenitsu, Inosuke E Nezuko in azione Quest'ultima in particolare Che viene circondata Da dei germogli Vediamo anche una figura Mai vista prima Nemmeno nelle art promozionali Per chi ha letto Sa benissimo chi è Senza citarlo o nominarlo Un mini cameo Apprezzato da chi segue Con questo si conclude l'episodio Seguito da tutto un listone Di persone Che hanno lavorato A questo pilota Yufo Table Non ha deluso le aspettative Non ci potevamo aspettare di meglio Per concludere un arco E iniziarne un altro Un esordio con i fiocchi Con un hype alle stelle Creato molto con le scene inedite Aggiunte per riempire questi 40 minuti Come sempre Tutto curato nei minimi dettagli Anche le scene semplici Funzionano egregiamente I tempi sono perfetti La fotografia è da paura E la colonna sonora anche Il prodotto confezionato Dallo studio È qualcosa che tutt'oggi appassiona E prende anche chi Come noi Ha già letto il manga Fino alla fine Eppure più volte Non è per fare i leccaculo Si sono sfasciati giorno e notte Per arrivare a questo punto E va riconosciuto A partire da oggi Portiamo tutta la seconda stagione Episodio per episodio E la svisceriamo Mettendola in comparazione Con il manga Con retroscena e review Schietta su ogni pezzo di animazione Ci sono degli errori Come ad esempio La malattia di Kagaia Poco sviluppata rispetto al manga E ne sta anche un altro Questo però A causa della release Del Gaiden di Kyojuro Teoricamente Kan Roji L'ha avuto come mentore Quindi Sua allieva sulla carta Senjuro cita come Non abbia mai avuto allievi Ma non è detto Che ne fosse a conoscenza Quindi Lasciamolo per semi corretto Ok che è uno spin off Però tratta il Come Kyojuro È diventato un pilastro Quindi lo vediamo Più che canonico Sicuramente La storia del capofamiglia Verrà corretta In un Blu-ray Con questo Noi chiudiamo Vi ringraziamo Per aver visto il video Fino a qui Se ci siete arrivati Vi invitiamo a lasciare un like Un commento Iscrivetevi al canale Attivare la campanella Se non l'avete fatto E seguirci su Instagram In community come sempre Vi mettiamo gli aggiornamenti Per tutti i video che usciranno Così come su Instagram State sintonizzati Per i prossimi video Perché ne arriveranno tanti Prima di Natale E anche dopo Grazie di nuovo a tutti quanti Per la visione Per il supporto E ci vediamo Ad un prossimo video Un saluto Da Vedata Channel Ciao